Nel giornalismo, che è sempre così affezionato alle notizie pesate al chilo, con il numero delle vittime che di solito segna lo spessore dell'indignazione, c'è da scommetterci che passerà piuttosto inosservata la novità che arriva dalla Francia, con il rapporto della CIASE, la Commissione sugli Abusi Sessuali nella Chiesa, incaricata dalla Conferenza Episcopale e quindi dai Vescovi della Francia, che indica il numero di bambini abusati. Dal 1950 a oggi sarebbero state 216.000 le vittime di pedofilia nella Chiesa francese e tra 2.900 e 3.200 i preti religiosi cattolici colpevoli di violenze sessuali a danni dei minori. Il presidente della Commissione indipendente Jean-Marc Sauvé ha dichiarato in occasione della diffusione del rapporto che da parte della Chiesa fino all'inizio degli anni 2000 un'indifferenza profonda e anche crudele sarebbe stata manifestata nei confronti delle vittime. C'è dentro tutto. Ci sono le vittime addirittura colpevolizzate. Si ritiene abbiano un po' contribuito a quello che è loro accaduto, si legge nel rapporto, oltre al solito tentativo di insabbiare tutto. Il numero delle vittime sale a 330.000 se vi si aggiungono gli aggressori laici, ovvero i sagrestani, gli insegnanti di scuole cattoliche, i responsabili di movimenti giovanili, che lavorano nelle istituzioni della Chiesa Cattolica, ha aggiunto Sauvé, alto dirigente francese, già membro del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, illustrando ai giornalisti le conclusioni della Commissione da lui preseduta. Le vittime sarebbero, nell'80% dei casi, maschi. La stima è stata ottenuta con una statistica comprendente un margine di circa 50.000 persone delle informazioni contenute negli archivi. Voglio esprimere la nostra gratitudine alle vittime che si sono rese disponibili a collaborare con la nostra Commissione, ha aggiunto Sauvé, senza le quali non avremmo potuto fare nulla. Pensiamo anche a coloro che non hanno potuto incontrarci. Sono senza dubbio quelle che soffrono di più. Ed è con loro che voglio terminare. Ma c'è un punto sostanziale della conferenza stampa. Il reato è stato definito sistemico. E allora ci si chiede quando finalmente si troverà il coraggio, lo spazio e la voglia di parlare di un sistema criminoso che ha bisogno di una sistematica risoluzione. E a proposito di chi dice che accade nella Chiesa ciò che accade ovunque, vale la pena sottolineare che, secondo il rapporto, i minori rischiano nel mondo religioso almeno due volte in più di essere vittime di abusi rispetto agli altri ambiti. Due terzi dei presunti pedofili sarebbero stati appartenenti al clero. 350.000 vittime solo in Francia, solo negli ultimi 70 anni, sono un numero enorme se applicato a tutto il mondo. Sono qualcosa che non può essere definito un errore. E soprattutto è qualcosa che non può essere mondato con una penitenza e quattro avemarie. non serve, perdono, serve una sistemica, appunto, soluzione. Buon mercoledì.